Questa sessione plenaria è stata utile anche per incontrare gli esponenti del gabinetto del commissario Valean al quale abbiamo sollecitato e sottoposto la nostra richiesta relativamente alla revisione dei corridoi europei della mobilità, un processo partecipativo che è iniziato ormai da due anni e che nei prossimi giorni ci è stato confermato andrà a conclusione. Il 14 dicembre il coordinamento dei commissari si riunisce per stilare la proposta definitiva che poi passerà all'approvazione del Parlamento europeo. Ho quindi sollecitato il gabinetto ad accogliere le proposte della regione Abruzzo e anche delle regioni del Adriatico Centro Meridionale che ho l'onore di coordinare un coordinamento tra le quattro regioni che comprendono Marche, Abruzzo, Molise e Puglia per colmare quel divario infrastrutturale che ha colpito questa parte dell'Italia meridionale. Io spero che questa sollecitazione dal basso, unita all'attività che saprà fare il Governo nazionale, possa portare a cogliere l'occasione della revisione delle reti per reinserire le regioni che ne erano state escluse e far sentire tutti i cittadini europei a pari diritti e con pari dignità.